un minuto Bene, eccolo qua, buonasera a Michele Marraffa Buonasera, buonasera Buonasera coordinatore Ciao Io dico Io oltre a coordinatore ai tanti, perché Michele è un imprenditore che ritengo sia, perché non è la sviolinata, è una cosa reale perché vedevo anche prima della trasmissione per spiegare chi fosse Michele Marraffa, basta andare basta andare su Google mettendo il nome Michele Marraffa ed escono tutte le sue attività, tra l'altro e non solamente locali, Michele è un illustro imprenditorialmente illustro non solo della Puglia, ma anche dell'Italia in quanto la sua attività varia in tutto il mondo Michele, noi italiani basta dire che Michele è uno degli artefici della ricostruzione a tempo di record del Ponte Morandi e questo già la dice lunga però Michele i tuoi interessi sono in tutto il mondo, parliamo un attimino prima di sviscerare il discorso per il quale ti abbiamo invitato questa sera e come coordinatore cittadino di Forza Italia e conoscitore della politica perché io dico che tu hai un difetto, c'hai questa passione innata nella politica che certe volte ruba proprio attimi che sono denaro e che producono denaro perché un'ora del tempo di Michele Marraffa produce produce economia tante economia allora Michele tu lavori un po' in tutto in tutto il mondo nessuna parte esclusa ce lo vuoi confermare questo? in tutto il mondo abbiamo qualche attività però diciamo che il lavoro maggiore è in Europa sicuramente noi stiamo facendo vedere un'immagine intanto, guarda qui questa è questo è un pezzo che è andato dall'altra parte del mondo e come vedi è vero quando dicevo in ogni parte del mondo Michele ritornando al ponte Morandi che è stata una dimostrazione come quando si vuole le cose si fanno e si fanno bene e si fanno in breve tempo qual è stata la differenza che cosa ha fatto la differenza nella ricostruzione di quel ponte? innanzitutto la grande volontà volerlo fare ma un merito ci sono state le giuste competenze sono state coinvolte le giuste competenze il nostro ruolo non è stato così eclatante noi avevamo le macchine giuste per portare le persone in altezza in totale sicurezza sia per la demolizione che per la ricostruzione però lì c'è stato il meglio dell'Italia con un'ingegneria di altissimo livello veramente c'è stato il top e il risultato si è visto quando si vuole si può fare io vi saluto da Marghera e non sono Martina Franca quindi abbiamo collegamenti internazionali perché prima stavamo in Florida ci siamo rapportati con Maurizio Colucci che tu probabilmente conoscerai il papà perché lo conosciamo tutti quanti Tonino il famoso pasticciere Tonino Colucci e lui sta in Florida da tantissimi anni lui sta cercando di collegarsi può darsi pure che lo avremo Maghera diciamo che tu hai aperto una piattaforma imprenditoriale mi sembra lì a Maghera giusto che è vicino nel Veneto proprio di fronte al porto noi abbiamo la sede della Uirent l'azienda di noleggio invece a Dolo abbiamo la sede della Marraffa Marraffa trasporti eccezionali in questo momento stiamo facendo un grosso lavoro all'interno del porto di Marghera stiamo capovolgendo un magnete che fa parte di quel grossissimo progetto della prima realizzazione della centrale a idrogeno che si sta costruendo in Francia dove tutto il mondo è coinvolto per realizzare quel progetto e noi facciamo le movimentazioni di questo se ne stanno costruendo 12 è un'azienda veramente spettacolare da vedere qualcosa di 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 ecco assomiglierebbe si potrebbe dire quasi a sfidare lo stesso vediamo se Paolo ce la fa venire perché è vero quando vedo Paolo piuttosto attento vuol dire che la sta cercando e probabilmente manderemo l'immagine tra qualche istante Michele Marraffa in questo momento in cui c'è la crisi del lavoro in tutto il mondo la tua azienda è un'azienda che quante unità lavorative conta? tante siamo circa 200 200 un'azienda che comunque voglio dire non è ricorsa alle casse integrazioni mi sembra le unità sono tutte stanno lavorando tutti o no? sì quindi la crisi la crisi in qualche modo non vi ha sfiorato o comunque anche le grossi aziende risentono di quello che sta avvenendo nel mondo? le aziende che costruiscono infrastrutture che costruiscono che sono legate al mondo energetico continuano a lavorare a produrre anzi ecco questa è la piattaforma di cui parlavi vero? Michele? quella è a Marghera sì a Marghera è una piattaforma utilizzata dalla impresa Marraffa per il carico il carico di queste grosse attrezzature che servono per la piattaforma sì appena ritrovata congratulazioni benissimo allora Paolo lascio a te Michele perché per introdurre l'argomento che tra l'altro dopo Michele Marraffa avremo anche altri ospiti prego Nemo profeta in patria Marraffa è più conosciuto in Europa sicuramente in Lombardia Veneto che qui in Puglia allora Michele coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Martina profondo conoscitore delle dinamiche della famiglia Berlusconi di Paolo Berlusconi di Silvio Berlusconi e ti abbiamo voluto stasera invitare proprio perché oggi è il giorno oggi è il giorno di Silvio Berlusconi a Roma Roma Silvio Berlusconi che da settembre dopo aver contratto il coronavirus era tornato in Costa Azzurra a Nizza dalla figlia da una delle figlie e beh oggi è voluto è voluto andare a Roma oggi ha avuto il colloquio con Draghi e abbiamo visto nelle immagini più tardi riproporremo qualche qualche foto un incontro molto cordiale anche amichevole evidentemente si vedeva che si conoscevano Michele a te la parola per descriverci quello che oggi il cambio di passo di Forza Italia alla luce dell'incarico dato a Mario Draghi per la formazione del nuovo governo Michele non ti sento ho qualche problema spero che voi sentiate Michele Marraffa prova io non ti sento Michele prova prova a riavviare sì abbiamo un problema di collegamento abbiamo un problema di collegamento vediamo proviamo a sentire ora Michele prova a parlare allora intanto dovrebbe forse uscire completamente Michele rientrare col link purtroppo abbiamo un problema non abbiamo lo vediamo bene però non riusciamo a a sentire l'audio vediamo un po' se è un fatto di collegamento allora Paolo qui stiamo vedendo l'immagine stiamo vedendo l'immagine appunto di questo pomeriggio oggi pomeriggio il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi è sbarcato in aeroporto a Roma con un volo privato che lo ha condotto nella capitale dalla costa azzurra è scappato secondo me dalla costa azzurra perché il contagio si diffonde anche lì sentiamo Michele Marraffa si è tornato in audio mi sentite Michele io vi sento vi sento bene ora ti sentiamo anche noi allora puoi andare perché è mancato l'audio per qualche secondo prego Michele no diceva Berlusconi si sta dimostrando veramente l'uomo che è sicuramente l'unico vero e forse ultimo liberale che abbiamo avuto nella storia politica degli ultimi decenni in Italia lui è uno statista vero e oggi lo sta dimostrando e lo sta mettendo in campo è sicuramente una delle persone più felice perché questo incarico è stato dato a Draghi che è un'eccellenza dell'economia ecco veramente riconosciuto nel mondo e non soltanto nella nostra amata Italia o in Europa oggi la partita dell'Italia è completamente diverso a livello europeo e a livello mondiale quindi Draghi sa quello che deve fare e Berlusconi è un uomo che conosce il mondo sicuramente il sostegno il sostegno di Forza Italia ha assicurato Berlusconi è motivato dalla necessità di mettere da parte ha detto nell'incontro tatticismi e come dire ambizioni elettorali oggi c'è in gioco Michele e Parli sicuramente anche da imprenditore oltre che coordinatore di Fratelli di Forza Italia è in gioco la salvezza della nazione è in gioco la salvezza del paese è in gioco la salvezza dell'Italia ma certamente sì che è in gioco intanto per il semplice fatto che delle intelligenze così preziose che abbiamo in Italia hanno raggiunto questo come posso dire questa grandissima possibilità ridà fiducia a tutte le partite vive ma non la mia parliamo dell'artigiano parliamo del barista parliamo di tutte le attività che sono chiuse in questo momento sicuramente incominciano a respirare fiducia e Berlusconi questo lo sente nel cuore e Draghi deve fare questo lo sa che lo deve fare e dico da oggi la partita dell'Italia in Europa e nel mondo è completamente diversa abbiamo finalmente stiamo mandando a casa i falliti della società quelli che non contano niente e quelli che con arroganza ci avevano tolto il piacere di vivere in Italia e di fare attività in Italia oggi credo che si stia tornando di nuovo ai veri valori di quelli che abbiamo guardate l'Italia mai come in questo momento assomiglia tantissimo alla nostra amata Martina Franca è la fotocopia in piccolo di Martina Franca quindi tutto quello che noi stiamo subendo che stiamo vivendo negli ultimi 7-8 anni a Martina Franca è il ripetersi in Italia io allargherei la visione alla Puglia Michele perché la Puglia muore la notizia prego prego no no avete avuto modo sicuramente di sentire qualche video io ho attaccato tremendamente la sanità ho attaccato tremendamente lo palco ho attaccato tremendamente il dottor Russi e che nessuno ha il coraggio di mandarlo a casa e le cose che mi dicono in questo momento che stanno succedendo a Martina Franca è da vergogna è veramente da aprire delle indagini serie contro queste persone che si stanno comprando la nostra salute stanno giocando con la nostra salute ma non con quelli che ce l'hanno la salute come me che magari ho ancora la forza di gridare con le persone che non ce l'hanno più la salute quindi si sta giocando alle spalle di queste persone è una vergogna devono andare via bene ha fatto Forza Italia bene ha fatto Francesco Paolo Sisto Mauro Datis ma sono cose che quando ci siamo sentiti l'altro giorno disse a Mauro Mauro dobbiamo fare molto di più dobbiamo far sentire la nostra voce questo è il momento di farla sentire è una vergogna quello che sta succedendo in Puglia e anche a Martina Franca io vedo già il prossimo ospite nel monitor che è l'onorevole Marcello Gemmato Michele vorrei concludere questo nostro incontro tu hai parlato di una vergogna dappertutto noi viviamo in una cittadina quella appunto Martina Franca proprio di ieri la notizia quella notizia che era apparsa ovvero che a quanto pare a quanto pare dovranno fare i vaccini in una società di mutuo scogliato guarda mai come adesso allora io sto parlando con due persone che sono Antonio Rubino e Paolo d'Arcangelo e Michele Marraffa tutte e tre noi abbiamo una cosa in comune è che abbiamo avuto un estremo bisogno di una sanità che sia quella vera quella sana e tutte e tre siamo andati fuori dalla Puglia per cercare quella vera che poteva darci una mano è questo apriamo Michele un altro discorso che certamente ci porterà Michele io intanto ti ringrazio sei il nostro carissimo amico ti vogliamo più spesso così con la tua opinione autorevole anche perché tu i leader nazionali li hai conosciuti quasi tutti Berlusconi abbiamo sentito una telefonata che poi tra te Berlusconi che è andata è stata anche trasmessa sui social eccetera ma non dimentichiamoci che in passato anche Zaia era un tuo interlocutore amico interlocutore quindi i big della politica sono di casa a casa Marraffa quindi magari ci potrei dare un'opinione più autorevole su quello che sta accadendo grazie Michele Marraffa e ti diamo appuntamento a una prossima trasmissione ancora sigletta perché presentiamo l'altro ospite grazie Michele un abbraccio a voi a Martina Franca grazie Michele